ciao a tutti sono marco 88 il signor lanterna o qualcosa del genere io sono un mazzo testa io la ciurma aspetta non ero il signor lanterna era il signor stufa in testa ti ricordi sì ma tu era l'altro tipo hai ragione gli stavo fregando l'identità e siamo dal nostro amico zucchino no zucchino secondo te che ortaggio potrebbe essere un fungo un fungo è andato male dai prendiamo l'ascensore l'ascensore torta guarda sì sì una torta con tipo delle candeline a forma di foglia insomma siamo del ruolo non abbiamo il tizio che rimane fuori dall'ascensore eh no siamo praticamente tipo dei nani perché alla fine i nani sono quelli meccanizzati che vanno a mangiare le torte bella missione tipo come in lo hobbit quando vanno da bilbo all'inizio che ci sono tutti i nani che vanno là e li mangiano tutto però sono simpatici quei nani ma no ci abbiamo di nuovo il tizio comunque non è questo tizio dietro abbiamo fatto un paio di missioni di dialogo diciamo nel mezzo che potevamo benissimo risparmiarvi e quindi abbiamo deciso di risparmiarvi effettivamente purtroppo ah no possiamo c'è il circuito famiglia si c'è il circuito famiglia ah c'è il random c'è yeah vabbè dobbiamo prendere delle bottiglie ci dici dobbiamo prendere delle sprite bottiglie di sprite ti piace la sprite? sì ma praticamente ci ha detto questo si è ho bevuto tutta la birra e l'hai lanciata addosso ai nemici adesso sono incazzati i neri perché non gliene ha offerta manco una non è gentile eh no le ha tirate in faccia le bottiglie vuote oddio c'è la torretta superpotenza c'era la torretta sì oddio cos'è sta albero? fa impression cerchiamo tonio cartogno dovrebbe essere lì ho messo qua i televisori come ho detto dovrebbe essere l'albero di tonio ho detto l'albero di tonio cartogno della melevisione so che ci sono le tv questa volta però ti devo battere con le monete casca ma è vero vinco sempre io con le monete dove sei andato? ma c'è il pulsante via ma perché ti sei fatto esploderla fare in faccia marco? una martellata oh guarda se il televisore è abbandonato che pezzene di proprio oddio oddio comunque ci siamo stanzi alla fine abbiamo risolto il problema ecco infatti me la sono fatta sparare in faccia anch'io diciamo abbiamo risolto il problema di marco 88 che era rimasto indietro con la missione di guerra guarda che figgata cosa? voglio vedere se riesco a centrare con la bomba oh grande no ne hai disdruzzo solo la metà no pum guarda senhi ah no non sei tu 20 secondi come 3 2 1 reazione a catena Già, perchè c'è una trappola qua in mezzo? Ci sono delle altre cose a catena, aspetta eh Guarda che stupido sto qua Vieni qua, vieni qua Devi attivare questi E' morto I mostri non sono tutta sta intelligenza No no, è più un hack and slash Oh ma vieni a vedere, quello è un tostapane Dov'è il tostapane? Io ce l'ho con questo Un tostapane Un tostapane maligno Dov'è andato il tostapane maligno? E' morto C'era un tostapane con le zambe Ma c'è una chiave qua, bel bimbo No, mi si è sparato una bomba in faccia C'era un tostapane con le zambe Guarda Guarda, ci sono delle bombe che ci seguono Oddio E adesso esplodono Che figata Quando muoiono Tornano bombe normali Si esplodono Più che altro Aspetta che recupero tutta la roba qua Ma è quella chiave per cosa ci serve? Per la porta Ah, per questa porta qua Di là abbiamo preso tutto? Si Sì Però c'è un errore di texture qua C'è un'immagine che si è visibilmente sdoppiata Vieni sul pulsante famiglia Altri tostapane? No Sono dei dinosauri Cosa sono queste? Ci sono anche le gambette Quindi non erano tv Sono amichevoli Ah, sono amichevoli Ah, somigliano a droghi No, in realtà sembrano Tipo Ah, non dobbiamo cercare delle sprite? No Elefante? Elefante? No, i dinosauri No, dobbiamo cercare dei pet Tipo Sembra No, ne abbiamo due che ci seguono Che lol Una testa Una testa? Si Uno segue te, uno segue me Si E hanno una testa Vediamo se Come li possiamo chiamare, scusa? Io lo chiamo Drago Girino Quasi quasi Perché un drago mi sta Girino Va bene, ma che nome è Drago Girino Oh, ci si attaccano Ma non serve a niente quel dinosauro, scusa Mi segue e basta Eh, volevi troppo Oh, c'è la bomba là dietro Bomba Ok Oh, c'ho Cosa? No, c'era la bomba che ti esplodeva dietro Ma non posso prendere questi Così blu, rossi e gialli Oh, c'ho C'è la bomba dietro No, staccela con me Ma il mio dinosauro è inutile Tu fa qualcosa, scusa No, guarda Anche il mio Forse perché non è ancora domesticato O è troppo piccolo Qua c'ha le moffette puzzolenti Comunque se no ti non spara esattamente a ripetizione Se tu gli spari tanto veloce A certe volte non Ah, ma perché deve ricaricare Tipo Vediamo Qua non c'è nient'altro? O da basso, tipo? Credo di no Qua c'è una benda Qua c'è qualcosa Cosa? Dove? Ah, you've got a battle sprite Guarda che c'è scritto una cosa sotto Premi uno Per usare la sprite battle skin Ah, se premi uno fa l'abilità del tizio Prova a premere uno L'ho già premuto Ah, infatti Beh, no, in realtà è un po' comodo Diciamo Vattene, vattene, sta per esplodere Volevo vedere se riuscivo a farglielo esplodere in facce Ma non ci sono riuscito Oh, guarda, questa c'è una fialetta Cosa serve con la fialetta? Penso che si lanci e basta Contro la tiroide, dici? Io ho provato a usare una fialetta di quelle che ho trovato nella questa precedente Eh, ma le lancio e basta Boh Ah, saranno tipo delle bombe? Già O delle pozioni da lanciare addosso la gente Oppure curano, solo che io le ho lanciate come sempre Oddio Dino, scelgo te Eh, c'è una torretta qua Oddio, c'è la torretta, non l'avevo vista Oddio, sto livello è interessante, direi E' esploso tutto Ma questo, scusi? Io ho l'inventario pieno Ah, ma queste bombe si rigenerano da sole Ah, ma lancio la fialetta Ah, armo Ma aspetta un attimo, c'ho l'ora nell'inventario Le loro stesse fialette Recipe, no material Dove sono, scusi? Sotto bomb, no A battle sprite, no dragone Boh Dove c'erai le fialette, scusa? Sulla barra Sulla barra Ah, è vero Freeze vial Atelier strike Comunque abbiamo due spell Abbiamo due spell nuove Uno scudo e una di attacco Sì? Ah, io ho preso dieci corone come premio Boh, ok Uh, no, abbiamo preso un sacco di roba Vediamo Adesso arriva anche a me No, no Quando c'è scritto avanza ora Sulla destra c'erano un sacco di armi Forse, vabbè Dopo ci do No, ma come un sacco di armi Un sacco di corda C'era il coso che scorreva perché c'era un premio a random C'era tipo una ruota che gira, no? E dice Papà, hai vinto dieci corone Mi hai capito dieci corone Vediamo cosa mi è capitato Dove siamo finiti? Oddio Non è finita Non è finita Non è finita, siamo ancora qua a combattere Bel bimbo Arrivo, arrivo Ma qua è chiuso, come facciamo a passare? Dove sei? Qua, ma è chiuso Prova a bussare Ah, no, ok Sono quelli che si rompono, quelli Occio la bomba Occio Ma il drago può morire, secondo te? Secondo me no Non abbiamo un indicatore della sua vita, fin fine Occio, attacco la bomba Cosa hai usato? Non lo so Mi si è sparato in faccia, tipo Però aspetta, sfascio questi, non vorrei che ci fosse qualcosa dietro Sbaglio o il nostro draghetto È proprio personalizzato per noi Guarda, io ho il draghetto con le strisce rosse e tu hai con le strisce blu È vero Però io sono verde, ma sono blu O sono blu? Sei blu Oddio Ah, ma quelli scurano gli altri Che pezzenti Hai visto che c'era quello del tipetto? Chi è quel tipetto? Non abbiamo mai incontrato questi tipetti Era sempre solo della roba meccanica Ne abbiamo trovato uno di quei tipetti lì Ti ricordi quello che ha fatto esplodere? È la versione in miniatura Chi abbiamo fatto esplodere, scusami? Quello che ci ha fatto esplodere No, quello non era un criceto mannaro, scusami Sì, solo che era più grande O sono viaggiato Ma no, quello che abbiamo sfidato adesso non era, scusa, un criceto Almeno a me non sembrava un criceto Ragazzi, a voi sembrava un criceto? Aspetteremo tipo una settimana della risposta dei commenti No, adesso tanto ne vedremo un altro di sicuro Non era un boss No, no Maledetta corretta Muore E comunque li curava quegli affari No Pronto, io qua ti vuol tutto Non abbiamo ancora provato la spella dello scudo Qual è? Eccolo 5 cos'è? Le palle di fuoco Guarda Ok, ho sprecato una skill per niente Anch'io 6 cos'è? Ah, delle palle che esplodono probabilmente Il 7 cos'è? Ha delle altre palle E il 4? Ok, ho lanciato la filetta Ok, ho sprecato tutto quello che avevo Ah no, adesso me ne sono riapparso Ho una filetta Che stun Shock barrier E fire barrier Cos'è che hai fatto esplodere? Scusa che mi è arrivato l'onda d'urto pure a me Il boss Mi sembra che No, non era un boss In realtà è uno di quei Cosi che devi Tipo uccidere mille milioni Di persone Ecco, questo forse è un boss No, ma non prende danni Oddio Mi ha sparato in faccia proprio Sto prendendo danno Sì, sì, sto prendendo danno È un battle Un battle pod Quindi dobbiamo stare lontani Finché la barriera Viola E dobbiamo spostarci mentre spara le bombe E dobbiamo spostarci mentre spara le bombe Ma perché gli stai addosso? Quale spara con gli affari? Eh, io sono un bel E almeno stargli addosso quando non gli spara Via via Ah no, ok È morto, è morto Sì Oh, mi serve un po' di vita Vabbè, che ormai Sì, credo che sia finito qua ora Insomma, questa era la missione petto Cioè qua in pratica incitano al vandalismo Cioè devi sfasciare tutto quello che incontri È quello che arrivi a casa Cioè andiamo a casa Non c'è più la torta Quindi credo che sia finito qua Ma le battle vial dove le avventure? Comunque hai capito che alla fine non erano televisori Ma erano le casette degli animali Eh sì Alcune Figo Vediamo un po' Vedi che prize wheel Ha detto di nuovo dieci corone mi sono parse, vabbè Ehm, dov'è il? No, hai preso più roba tu sto giro Del acquired Mi sono preso un macchiello di roba Eh, anche io Però tu hai preso molte più corone di me E vabbè Quattro quante corone in più? Venti? Sì Mi sono ripagato di... Ma secondo me non è ancora finita la missione Ma ci hanno dato la roba No, non ci hanno dato la roba Non ancora Cazzo No, cavolo Sì, invece Finita Ah, sì Ah, ok Adesso ci hanno dato la roba Sì Zapper Oh, è la pistola più... S... S... Sforte Good chance of causing moderate shock Shock Oh, mi hanno dato... Mi hanno dato una palla potenziata Accetto Sì, perfetto Che alla fine non è una palla È una spada È scritto spada Vabbè, ma... È una spada-palla Lo dicono tanto per... Ah no, la prossima ha una spada... Vabbè, abbiamo lo Zapper La tua è la spada... Cioè, la pistola di Zapper Brandingham di Futurama, no? Ah-ha... È quella... Su serio? Si chiama Zapper... Come Zapper... No... È una cosa che mi sono inventato io adesso... Però fa letteralmente cacare... Solo l'effetto grafico... Nella canna è carino Adesso guardo allora le missioni... No, dov'è che è le missioni? Mi lo nasconde sempre le missioni Ah, Super Slime Slasher dici? No Ah-re... Una riabilizzazione Ma scusa, è quella la cosa per la prossima missione? Tu quale stai dicendo? Qual'è la prossima? Angels from Antiquity Quella prima! È quella che abbiamo fatto adesso? Che ci ha dato la... Ci ha detto... Ci ha dato Zapper... Cioè, la pistola di Zapper... No? Fa schifo? Come schifo? A parte la canna... Invece quella dopo... Ci dà la spada a palla... A me dà la spada a palla... Ma sì, credo che dà la stessa cosa a tutti, no? Sì, sì, sì... Vabbè, comunque... Do un'occhiata, ma credo che per questo episodio sia abbastanza... Sì, infatti, sono passati 21 minuti... È stato un episodio un po' smorto, forse, questo, eh? Eh già... Però... Ci siamo guadagnati il pet, ma dove... Dov'è? Non lo so... Oh, cosa? Il nostro animaletto domestico, chissà dove è finito... Ah, non lo so... Forse perché non è una zona combattiva qua... Ah, no, sì che è combattiva, scusa... Stacca con il liceo... Vabbè, ma... Ci stiamo perdendo per le lunghe... È meglio concludere il video... Sì, effettivamente... Già i ragazzi ci saranno stufati... Esatto... Più che altro è tutto da tagliare perché non stiamo facendo un cavolo... Quindi... Non tagliamo niente e concludiamo qua il video... Già... Allora... Vi invito a lasciare un mi piace... A entrambi i video... Vi invito anche da parte di Marco88... A iscrivervi... A iscrivervi... A iscrivervi soprattutto... Noi ci vediamo al prossimo video con Marco88... Che sarà lo speciale di Halloween... Quindi state sintonizzati... E quindi... Credo che da Mark... Mazzetese... Marco88... È tutto per questo video... Noi ci vediamo... Ciao a tutti... Ciao...